Nuova Pescara, si rischiano ulteriori ritardi, ulteriori slittamenti, il Partito Democratico alza la voce? Sì, l'alziamo e anche con grande forza ha visto anche l'impegno che c'è stato da parte del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato che è riuscito ad ottenere un emendamento che porta un finanziamento, uno stanziamento piuttosto corposo ai comuni che intendono fondersi per la fusione dei comuni con un numero di abitanti superiori a 100.000. Quindi noi rientriamo in questo tipo di emendamento, sono 105 milioni di euro per avviare il processo di fusione attraverso l'unificazione dei servizi e creare quella struttura idonea soprattutto per monitorare, valutare, osservare, programmare delle azioni anche in linea con quanto previsto dal PNRR. Quindi noi chiediamo ancora una volta innanzitutto anche al Sindaco Masci che ha partecipato grazie al coinvolgimento del senatore Luciano D'Alfonso e del Partito Democratico attivamente a degli incontri, una sorta di anche programmazione proprio finalizzata a portare avanti il processo di fusione, a farsi sentire il centrodestra in regione ma anche il centrodestra qui in comune e soprattutto il sindaco Masci deve iniziare a dare delle risposte chiare ai cittadini che si aspettano questo processo di fusione da anni. Quindi alzeremo la voce ancora di più. Noi vogliamo che si vada avanti, adesso ci sono i finanziamenti, si sta lavorando, si stanno creando dibattiti, si sta creando movimento di idee. Vogliamo che questa fusione avvenga nel tempo più breve possibile. Fermo restando che loro parlano di un rinvio solo per prendere tempo. Ma di fatto noi dobbiamo pensare che la nuova Pescara è già realtà a tutti gli effetti.